La Puglia è tra le regioni più povere d'Italia. Se frena in generale l'economia nazionale, quella regionale è completamente bloccata. I dati sono dell'ultimo rapporto annuale Istat che mette in evidenza la critica situazione economica della Puglia, che si piazza al 17esimo posto su 20 regioni italiane con un reddito pro capite per singola persona di 19.000 euro. Numeri che preoccupano e che mostrano in tutta la sua gravità la situazione finanziaria delle famiglie pugliesi sempre più povere. La regione più ricca d'Italia invece è il Trentino Alto Adige con un PIL pro capite di 42.300 euro, mentre la Calabria è il fanalino di coda della classifica con appena 17.100 euro. Il PIL pro capite misura il livello dei beni e servizi di una nazione e dunque il suo benessere. Pochi mesi fa proprio l'Istat lanciò l'allarme più di un pugliese su tre e a rischio povertà. Il numero è aumentato nell'ultimo anno invece che diminuire, come è accaduto nelle restanti regioni italiane. Nel secondo trimestre del 2023 in Italia il PIL è diminuito dello 0,4% rispetto ai tre mesi precedenti. Per questo motivo l'Istat ha rivisto al ribasso la stima preliminare diffusa il 31 luglio scorso, che prevedeva una riduzione congiunturale dello 0,3% ed una crescita tendenziale dello 0,6%. Nel secondo trimestre di quest'anno l'economia italiana ha registrato una performance inferiore a quella della media europea e dei principali partner. A preoccupare dunque è la forbice sempre più larga tra il nord e il sud, un divario economico importante e preoccupante. Un quadro che si riflette in automatico anche sull'occupazione, soprattutto quella giovanile, che continua a registrare segni negativi con appena quasi 5 giovani su 10 occupati, rispetto invece agli 8 su 10 del centro nord Italia, certificando così tutta la debolezza socio-economica del sud e nello specifico della Puglia. Grazie.